ciao a tutti sono sempre io alessandro l'amministratore del canale commedia all'italiana in questi giorni abbiamo tutti ricordato stiamo tutti ricordando ovviamente il grandissimo gigi proietti che ci ha lasciati nel giorno del suo compleanno il 2 novembre come accadde per il grande shakespeare 80 anni di gigi tantissimi anni l'abbiamo detto mezzo secolo praticamente di arte di arte pura uno di quegli artisti che al cento per cento non nasceranno più oggi voglio parlarvi non è una recensione più che altro una piccola chiacchierata riguardante uno dei film che più amo in assoluto un film che ho molto ricordato anche che sto ricordando particolarmente in questi giorni sulla mia pagina instagram commedia italiana che vi invito a seguire attraverso post storie eccetera febbre da cavallo febbre da cavallo è il film più celebre tra tutti quelli interpretati da gigi proietti che comunque sono tanti ma per dirvi da brancaleone alle crociate meo patacca la tosca casotto panni sporchi di mario moricelli e fino agli ultimi da febbre da cavallo la mandracata le barzellette un'estate al mare un'estate ai caraibi la vita è una cosa meravigliosa quindi tutti i lavori con carlo vanzina ma tu di che segno sei di neri parenti il premio di alessandro gasman pinocchio di matteo garrone il ruolo di mangia fuoco aspettando io sono babbo natale di edoardo falcone quindi sono veramente tantissimi vengono citati pochi rispetto a tutti quelli che ha fatto la sua casa era il teatro ma ha fatto anche tanto cinema tanta televisione dal maresciallo rocca una pallottola nel cuore il signore della truffa preferisco il paradiso e ho finito gli elenchi perché sennò poi non finiamo più quindi mi fermo qui e febbre da cavallo io ho fatto vedere questa specie di santino per me per me è come se fosse un santino anche nel video che ho dedicato proprio a gigi purtroppo nel giorno della sua scomparsa febbre da cavallo è uno dei motivi per i quali amo la commedia per i quali amo il cinema la comicità e l'arte romana la cultura romana e quella febbre da cavallo che steno ci raccontò nel 1976 con l'ausilio di enrico vanzina molto giovane che il papà stefano vanzina chiamò in sceneggiatura perché frequentava gli ipodromi in quegli anni e quindi era sicuro che potesse dargli una mano e poi si è rivelata preziosa il racconto bizzarro divertente silarante macchiettistico ma anche malinconico questo è poi un aspetto che nel corso degli anni sono riuscito a cogliere maggiormente malinconico satirico sui giocatori delle corse dei cavalli chi è il giocatore delle corse dei cavalli ce ne siamo tutti ma vai cortango tutti i giocatori delle corse dei cavalli raccontati in maniera molto molto macchiettistica tratti grottesca con anche diversi di quelli che sono stati importantissimi ingredienti della commedia italiana che negli anni 70 visse un periodo molto particolare anche difficile un periodo un intervallo possiamo dire dagli anni 60 agli anni 80 in mezzo ci sono gli anni 70 molto delicati per quanto riguarda questa definizione la commedia all'italiana questo strepitoso filone del nostro cinema ma questa è a modo suo una commedia italiana seppur più leggera seppur più spensierata di quelle magari più celebri più amate riconosciute di cui spesso parliamo e questo film diretto per l'appunto da steno scritto col figlio enrico interpretato da gigi proietti enrico montesano francesco de rosa catania spack mario carotenuto nerina montagnani gigi ballista insomma veramente un cast eccezionale è renzo zano per esempio veramente è uno dei film che più portano il cuore in assoluto è un film divertentissimo esilarante come vi ho detto c'è anche un lato più malinconico che spesso magari tendiamo a non notare ma logicamente numerose sono le scene cult che hanno fatto sì che questo film negli anni grazie soprattutto ai numerosi passaggi televisivi perché al cinema all'epoca quando uscì più che altro nelle sale non è che ebbe questo incredibile successo e purtroppo spesso accade ma grazie ai numerosi passaggi televisivi poi divenne il film che tutti oggi conosciamo questa commedia ormai storica sono molteplici le scene diventate assolutamente cult nel corso degli anni di questo film cult per eccellenza il whisky maschio senza rischio bocconi ciccolini e il il corridore francese che alla fine in persona gigi proietti e certi cazzi ma fa che manco te che sei pratica l'hai visti mai e l'avvocato le marchi scarotenuto che se vuoi la società no nia faccio nia faccio a questo che gli prega ma niente noccioline e quindi la vita del pomata che vive con la sorella che ci ha staviata tornato il vento che uccide e poi nella mandracata nel sequel sarà erghibli il vento che uccide quando andrà a piangere il pomata sulla finta tomba questa finta morte messa in scena in maniera straordinaria dal pomata e che non c'è una lira ogni giorno si cerca il minimo appiglio per poter giocare i cavalli con tutti questi che che tutti questi ecco uomini anche magari appartenenti alla malavita che lo ricercano perché è in debito con loro erventresca belli capelli e roscio e questa povera nonnina che gli sta sempre dietro anche nelle sue continue messe in scena mandrache che è giustamente è sposa non è sposato dovrebbe sposarsi sta con gabriella lei non regge il suo vizio dei cavalli la illude le fa credere di aver smesso ma così non è è il povero felice francesco de rosa che sta in mezzo a sti due mattacchioni e che fondamentalmente è il più più intelligente dei tre è quello che in qualche modo guadagna perché lavora è quello che si è fatto una vita è quello che insomma porta avanti anche un pochino questo bizzarro trio di giocatori delle corse dei cavalli adolfo celi che il giudice che vediamo in una delle scene finali in alcune delle scene finali poi è assolutamente la ciliegine sulla torta di questo film assolutamente silarante ripeto tantissime scene che tutti noi conosciamo e amiamo forse quella più celebre di tutte è proprio quella del whisky maschio senza rischio ma io devo dire che la scena forse che mi fa sempre più ridere che amo di più a parte l'inizio che amo perché mi porta in questo ambiente molto romano l'ippodromo di tor di valle e questi luoghi che sento miei anche se non li ho mai frequentati perché quelle diverse volte in cui ho visitato la capitale non sono andata l'ippodromo di tor di valle per dirvi però lo sento mio quindi questo è straordinario però la scena forse che amo di più e che mi diverte sempre di più è quella della finta morte della nonna del pomada a pomada io non so che ditte pure si tovo dicessi che tovo di caffè e a me questa frase è un po tornata in mente proprio in occasione della morte di gigi avrei voluto dirgli a gigi io non so che ditte e pure si tovo dicessi che tovo di caffè ci hai lasciato un vuoto assolutamente incolmabile e rivedere questi film è nella più totale testimonianza ieri al funerale io sto registrando il video la sera del 6 novembre comunque quello vedrete il 7 e quindi l'altro ieri il funerale di gigi davvero abbiamo notato tutta la commozione l'emozione da parte di coloro che sono stati suoi allievi da pino quartullo enrico brignano tutti coloro che non erano presenti quindi caprile cirilli flavio in sinna e insomma elino guanciale e poi la moglie le figlie carlotta e susanna la moglie sagitta è intervenuta marisa laurito è intervenuta anche una sua giovane allieva attrice di teatro insomma l'abbiamo ricordato tutti lo stiamo ricordando tutti tra l'altro a eduardo leo anche intervenuto con un discorso stupendo in cui ha ricordato le parole che gigi disse al funerale di albertone sordi 17 anni fa che io ho ricordato nel video a fine video qualche giorno fa per l'appunto perché tu non sei soltanto un grande attore sei molto di più sei gigi proietti e meraviglioso però il discorso di enrico brignano tu non ci sei più non riesco a dire la parola più non ci sei non riesco a dire la parola più meravigliosa veramente il discorso anche di enrico gigi sarà andato ragazzi dobbiamo farci una ragione ma è impossibile forse non lo so ci stiamo provando tutti ma anche noi semplici fan amanti facciamo tanta fatica figuriamoci quindi coloro che lo hanno amato conosciuto sostenuto per tutta la sua vita da amici la moglie le figlie insomma e tutte le persone che li sono state vicine che hanno avuto questo privilegio di conoscerlo e non soltanto di amarlo come abbiamo fatto tutti noi ma è stato un grande privilegio anche per noi assolutamente quindi questa doveva essere una recezione poi come vedete mi sono perso febbra da cavallo un film strepitoso una commedia divertentissima ma che nasconde anche tanti aspetti più profondi malinconici il mio voto è un otto e mezzo perché poi qui non ci sono analisi che tengono è un film strepitoso che ha scritto la storia della commedia italiana e che non passerà mai di moda assolutamente e quindi io vi invito a recuperarlo ma insomma è impossibile che non l'abbiate visto piuttosto vi invito a dare un'occasione al sequel di carlo di carlo manzina ovviamente sceneggiato insieme al fratello enrico del 2002 che è uno dei sequel più belli e riusciti che abbia mai visto e forse ve ne parlerò sul canale non so se a breve o più più in là ma ve ne parlerò senza dubbio comunque andatevi a rivedere e rivedere febbre da cavallo di steno perché è veramente una commedia cult a tutti gli effetti ciao gigi grazie di tutto ciao a tutti è sempre viva il cinema italiano